Secondo me tantissimo, questo libro che io sono Matteo Salvini, secondo me è chiaro che abbia fatto sì che comunque tutta una certa sinistra abbia cercato di censurarlo e comunque di metterlo all'angolo. Lo hanno tirato per la giacchetta, lo hanno criticato per il fatto che Matteo fosse del sottoscritto, io non farò la stessa cosa dall'altra parte, quindi anzi lo svincolo e dico che comunque alla fine tutto quello che ha detto è pure vero. Sì, secondo me devo dire che è un attacco a Salvini, è un attacco ad Altaforte, a Libero Pensiero ed è un attacco anche al movimento del quale faccio parte che comunque si candida in maniera autonoma rispetto appunto alla Lega. Di fatto l'indipendenza anche della casa editrice che è Altaforte si nota anche in questo perché due settimane prima delle elezioni europee se abbiamo comunque pubblicato un libro, intervista al principale leader sovranista capite che è stato oggetto anche di un mio conflitto anche interiore, culturale e politico.